Ancora è vivo nel cuore del parroco, di tutta la comunità parrocchiale e della stragrande maggioranza dei bagheresi la commozione, il turbamento di ciò che è stato perpetrato qualche settimana fa alla Chiesa Madre, il furto sacrilego nel quale praticamente hanno portato via tutto, tutto ciò che è di valore, di preziosità, calici, pissidi, ostensori, patene e quant'altro, hanno distrutto certamente la memoria storica, la memoria devozionale, la fede di tanti fedeli, di tanti devoti che hanno e hanno ancora, hanno avuto ed hanno un cordone ombelicale di affetto verso la Chiesa Madre, la Chiesa di Dio. Una signora mi ha commosso quando mi ha detto, Padre Giovanni, è come se avessero rubato a casa mia. E sì, perché la Chiesa Madre è la casa di Dio, ogni Chiesa è casa di Dio e ogni fedele che si rispetti considera la casa di Dio come la propria casa. Adesso è il momento di stare con i piedi per terra, non chiuderci a riccio nella tristezza, nello scoraggiamento. Ho detto e abbiamo certezza che nonostante le povertà, il Signore, il Risorto, il vincitore del peccato del mondo, non abbandonerà mai la sua Chiesa e come non abbandonerà mai la Chiesa e i fedeli di Bagheria. Ed è per questo che oggi, sabato 5 maggio e domenica 6 maggio, in tutte le celebrazioni eucaristiche, sarà realizzata una raccolta di solidarietà per comprare, almeno per provvedere in modo dignitoso a degli oggetti sacri per una decorosa e dignitosa celebrazione liturgica, come merita la celebrazione dei Santi Misteri di Dio. Abbiamo avviato, proprio per quanti, ed è la richiesta di tanti, un codice IBAN. Abbiamo esortato tanti fedeli, ecco, di buona volontà, in modo libero, in modo libero a dare la propria offerta, sottolineando a caratteri certi e chiari che di tutto sarà rendicontato nei minimi particolari. Non vogliamo strumentalizzare nessuno e chi che sia, siamo per la verità. Ogni offerta di ogni singolo fedele, sia un euro o siano due euro, sarà rendicontata e resa pubblica. Per questo è istituita una commissione di persone fidate e di validi fedeli, oltre che con il Consiglio di amministrazione, per equiparare, per puntualizzare e per rendicontare nei minimi particolari ciò che arriva e ciò che sarà speso per l'indispensabile dell'azione liturgica. Devo altresì dire, in un modo quasi forte, che c'è gente che strumentalizza i terremoti, le morte, le povertà, le disperazioni, ed anche i furti in chiesa, c'è gente che gira per bagheria per raccogliere offerte per la chiesa madre. In modo assoluto diffido chiunque a dare offerte a questa gente, certamente con poca coscienza, gente poco onesta che strumentalizza anche le cose di Dio e il dramma delle persone. Chiunque voglia si rivolga soltanto al sottoscritto parroco e sarà rendicontato, ripeto, nei minimi particolari, quanto dato per la giusta spesa e una degna liturgia alla Santa Chiesa Madre di Dio che è in bagheria. Ancora grazie a tutti, grazie a tutti per la solidarietà e per l'atteggiamento di commossa partecipazione a ciò che a tutti è particolarmente provato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.